premetto che questo sarà un video un po polemico perché mi sono posta una domanda ma ha ancora senso andare a vedere le opere nei musei ovviamente è una domanda provocatoria e le risposte insomma vediamo adesso di darcele insieme come dire allora da dove parte questa mia domanda io sono andata di recente sono tornata a visitare la galleria palatina di palazzo pitti a firenze che accoglie una collezione meravigliosa e non ci andavo da tantissimi anni da quando ero una studentessa quindi come dire avevo i ricordi di una collezione molto bella ma non avevo assolutamente fatto caso all'allestimento museale quindi sono andata in particolare perché volevo tornare a vedere alcune opere c'era questa afroditecnide riprasitele non è la coppia più prestigiosa che abbiamo in italia ne abbiamo due meravigliose a roma almeno tanto per dire però insomma finché si tratta di statue tutto sommato anche se ci sono dei corridoi con dei percorsi obbligati per cui non ci si può avvicinare non si può vedere frontalmente però insomma mi sono accontentata i problemi cominciano secondo me quando dobbiamo guardare le meravigliose opere pittoriche della collezione perché qui vi ho inserito soltanto una piccolissima parte delle opere che si possono incontrare però ad esempio si trovano tante opere di sandra botticelli queste del giovane sandra botticelli le foto che io ho inserito adesso capirete anche l'esercizio che ho fatto le foto che ho inserito sono foto che vi fanno vedere come io le ho scattate dalla mia migliore posizione cercando di trovare un punto in cui non ci fossero riflessi dei vetri e in cui le opere non venissero più di tanto distorte ma questa è la mia migliore possibilità dopodiché tramite le app insomma come dire per sistemare banalmente le foto ho cercato di raddrizzare un po questa è la migliore foto che io posso trarre di un dipinto che è lì in mostra di sandra botticelli mi sorge anche un dubbio perché nell'allestimento di palazzo pitti della galleria palatina ci sono come vedete appunto la la didascalia è inserita direttamente nelle opere allora importantissima l'idea è quella di ovviamente farci camminare ancora all'interno della collezione dei granduchi di toscana quindi coloro che avevano messo insieme questa prestigiosa straordinaria collezione il palazzo è straordinario io non l'ho guardato devo dire la verità perché ero talmente presa nella dalla smagna di guardare alcune opere che non potevo far caso a tutto e allora io capisco che un museo debba ancora restituire il sapore della collezione quando è nata perché un palazzo come quello palazzo pitti la galleria palatina galleria di palazzo ovviamente il senso deve darlo però la didascalia già comincia a presentare i suoi problemi essendo un museo che ancora oggi si visita non solo per avere oggi un'idea della galleria dei granduchi di toscana ma per vedere le opere quindi io vedo ad esempio qui sandro botticelli mi dà il titolo dell'opera se riesco a vederlo per quanto perché a volte erano messa in alto nella parete manca la data ho la data di nascita e morte e il luogo di nascita e morte dell'autore sandro botticelli ma non ho la data dell'opera paradossalmente se io voglio capire se questo è un ritratto di giovane uomo ritratto giovanile realizzato da botticelli ovviamente ritratto giovanile devo andarmi a pescare o sui libri o addirittura con mio telefono guardo sul web ma sono davanti all'opera al museo e non posso sapere esattamente quando è stata fatta l'opera primo problema che però è marginale certo è che se io guardo oggi l'opera sul web la vedo meglio perché non ho il vetro non ho i riflessi non ho la gente intorno e riesco a concentrarmi sulla composizione sugli elementi ecco il colore spesso è falsato perché come vedete ho delle difformità ma questa è una questione ce la teniamo lì andiamo avanti io l'ho andata in particolare alla galleria platina perché avevo intenzione di guardarmi gustarmi il tondo martolini di filippo lippi su cui poi vorrei fare una lezione a parte ma adesso lasciamo in sospeso questo tutto sommato si vede anche abbastanza bene perché siccome è staccato dalla parete tramite un meccanismo una cerniera che serve proprio a spostarlo ovviamente non noi possiamo spostarlo però almeno gioca un po meno peggio con i riflessi questa è la foto che ho fatto io e questo è quello che si trova sul web anche in questo caso in questo caso direi che i colori che si trovano sul web non rendono assolutamente l'idea dell'insieme i veri problemi cominciano quando abbiamo opere che sono messe nella parete di fronte alle finestre come questa straordinaria di pontone che io non sono vedete ci sono tutti questi riflessi verticali questa è quella che trovo sul web paradossalmente è meglio se io la guardo sul web ma ancora sempre il nostro povero botticelli un pochino martoriato nella esposizione tutto sommato la foto migliore che sono riuscita a fare questa la correzione della foto è questa questo è quello che trovo sul web i colori sono più veritieri ovviamente per quanto frutto di una foto fatta con un telefono quelli che si vedono dal vero ma i dettagli la definizione ovviamente ancora una volta è meglio sul web il grande sconfitto della galleria palatina però vedrete che sarà raffaello guardate qui una sacra famiglia delle tante che lui ha realizzato tantissimi riflessi io cerco di migliorare più possibile l'opera per farla non sembrare così sghemba come si vede sulla parete se la cerco sul web questi sono i colori quindi è totalmente difforme quindi in questo caso è decisamente meglio vederla qui anche se ripeto io al museo la vedo così con tutti questi riflessi io che devo spostarmi di qua e di là per cercare di avere una minore una possibilità migliore caravaggio amore dormiente opera straordinaria che qualche volta ha lasciato la collezione per partecipare alle prestigiose mostre temporanee che vengono dedicate all'artista milanese sempre mia migliore foto sto attenta cerco di fare la più dritta possibile guardate quanti riflessi entrano proprio tutti i quadri della parete di fronte li vedete in in sottofondo riflessi appunto questa è la mia migliore possibilità questo è quello che trovo sul web ovvio che se io voglio dedicarmi a capire a guardare a studiare a ovviamente di cui web ovviamente valgono i libri i libri sono un'ottima alternativa ma voglio dirvi la mia provocazione è ha senso andare a vedere le opere al museo in alcuni casi la domanda per quanto straordinariamente provocatorio vi dicevo perché io ovviamente invito sempre i miei ragazzi ad andare a vedere le opere al museo perché l'unica opera originale è quella del museo ce n'è una una è quella la famosa aura di cui parlava Walter Benjamin nella riproducibilità tecnica ragionando sulla possibilità di moltiplicare le opere e poi molto lontano dalla nostra era digitale ovvio che l'aura è quella che ha intorno l'opera in sé ed è vedere l'opera per davvero è trovarsi lì ma a me è capitato di pormi questa domanda perché appunto sono davanti ad esempio a questa gravida di raffaello guardate ancora come mi risulta difficile poterla vedere se la guardo sul web questo è quello che trovo in una ricerca veloce per trovarla in alta qualità tiziano un altro di quelli che esce malissimo da palazzo pitti guardate la foto da sghemba perché ovviamente messa di lateralmente non si può andare più vicino i riflessi sono questi se anche le modifico questo si trova sul web spariscono i riflessi non è bellissima neanche questa artemise gentileschi la maddalena penitente io volevo veramente la conversione della maddalena volevo veramente vedere davvero questa opera dopo tanto tempo ci tenevo veramente tantissimo non mi ricordavo più che era messa in cima là in alto alla parete praticamente risulta difficilissima da vedere io l'ho dovuta prendere da molto lontano l'opera perché altrimenti è messa in alto ci sono tantissimi riflessi riflessi non si vede nulla è al di sopra dell'opera di tiziano vedete comparire qua sotto guardate i riflessi sull'opera di tiziano ecco questa è la mia migliore riproduzione possibile della maddalena di artemise gentileschi se io vado sul web miracolo dei miracoli guardate che straordinaria luminosità i colori non sono i suoi occorre andare dal vero a vedere perché i colori che noi troviamo sul web non sono quelli originali ma se io devo studiare l'opera non è meglio che guardi questa se io devo potermi concentrare certo quel rosso di quella seggiola non assomiglia assolutamente al rosso che io vedo al museo ma non è meglio vederla così e ancora di artemisia tutto sommato questa è abbastanza l'altezza d'occhi quindi si riesce a tradurre in questo modo ma guardate cosa succede se io la cerco sull'online ovviamente si vede di nuovo raffaello guardate questo è straordinario raffaello messo in questa posizione un po staccato dal muro sempre per fare meno riflessi forse io cerco di sistemarla così la cerco online guardate un'altra opera un'altra opera è veramente una provocazione guardate questa ancora raffaello non è la versione più celebre del ritratto di giuglio secondo è che quella della national gallery di londra però è qui vedete stiamo parlando di una di quelle opere che io faccio studiare i ragazzi e mi trovo davanti all'opera questo è quello che riesco a vedere al museo allontanandomi perché riflessi su riflessi questo è io che cerco di correggerla online la trovo senza riflessi tutto sommato l'ho presa anche ancora con la cornice quindi forse avrei trovato anche di meglio guardate ancora raffaello questo è proprio buffo perché questo povero tommaso inghirami appunto che guarda verso l'alto verso quel riflesso schifoso che si trova nell'angolino lo trovo online capite la mia provocazione capite la domanda che io vi sto facendo ha senso ancora vedere le opere online questo poi è fantastico ancora raffaello ritratto virile che poi è stato identificato come un ritratto di perugino guardate online guardate dal vero ma è l'opera vera quella che io voglio vedere io attraverso l'italia prendo treni prenoto il museo il biglietto pago l'ingresso piccola postillo ulteriore io sono un insegnante noi all'interno di alcune collezioni di musei statali o anche di altri musei abbiamo l'accesso gratuito dobbiamo presentare però il certificato che ogni anno noi siamo insegnanti ma se io sono insegnante tempo indeterminato perché ogni anno devo farmi rifare dalla segreteria lo stesso modulo cartaceo inutile dettagli dettagli comunque io attraverso l'italia prenoto per andare a vedere questa opera non perché un libro apro online lo trovo ma io voglio trovarmi a tu per tu con la tramatura della tavola di legno su cui l'opera è dipinta e vedere la pennella il segno della pennellata ma non riesco allora tolgo tutto questo vado online e trovo l'opera priva di riflessi appiattita che sia su tavola o su tela è indifferente che sia olio che sia tempera è indifferente perché ovviamente mi si perde la tramatura però l'opera la vedo la vedo il paradosso è che io sono al museo di nuovo raffaello io sono al museo e la sacralità dell'essere lì davanti mi viene a scomparire il momento in cui l'opera mi è sottratta alla vista nonostante ce l'abbia lì davanti non riesco a vederla guardate questo è un esempio tra i peggiori di tutti andrea del verrocchio maestro di botticelli e di leonardo stiamo parlando di un artista straordinario meraviglioso san girolamo che non si vede guardate lo spettacolo di cercare la stessa opera online queste rughe questa questa verosimiglianza no che il suo volto ha il chiaroscuro che fa saltare fuori la traccia della vecchiaia sul suo volto queste lumeggiature questi occhi rivolti verso l'alto una visione straordinaria che qui onestamente al museo ma io sono al museo perché voglio vedere verrocchio lo vedo verrocchio non lo vedo non lo vedo vado avanti poi la finisco raffaello sanzio di nuovo ve l'ho detto uno dei più martoriati la velata la celeberrima straordinaria velata velata anche alla vista perché vedete che abbiamo tutti questi meravigliosi riflessi delle opere di fronte questo è quello online ha senso andare al museo vedere l'opera sotto abbiamo giorgione le tre età dell'uomo sappiamo giorgione rarissimo avere opere autografi di giorgione straordinariamente importante guardate che riflessi guardate quello che faccio online che trovo online riesco a vedere in volto questi tre personaggi devo veramente fare uno slalom visivo e poi non ci riesco al di sopra c'è un'opera interessantissima di tiziano perché dovrebbe essere la giulia da varano cioè è la giulia da varano cioè la destinataria della venere di urbino che tiziano aveva realizzato per guido baldo secondo della rovere per dare un po un'istruzione sentimentale a questa ragazza non esattamente avvenente come voi vedete ma qui al museo sì il colore dell'abito è decisamente più brutto online nella foto veloce che ho trovato però voi capite che l'opera qui non si può vedere per qui un confronto diretto con giulia da varano non posso avercelo c'è un velasquez alla galleria palatina un velasquez io nutro un'ammirazione senza pari per velasquez guardate qui se ci riuscite lo trovo online sì si appiattiscono i colori quello sfondo diventa un altro dipinto diventa un altro dipinto ma almeno lo vedo che brutta cosa che mi fate dire questo è una delle opere più importanti che io faccio studiare quando devo raccontare del fatto che dopo le tesi luterane del 1517 il papa risponde di sua mano dicendo no soltanto la chiesa può prendere in mano la bibbia sfogliarla ritroso e giovanni de medici leone decimo no che sta sfogliando a ritroso il vangelo per arrivare alla pagina del vangelo di giovanni da cui lui prende il suo nome il vangelo legato a lui con una lente di ingrandimento per dire sì noi soltanto noi io la chiesa noi sacerdoti possiamo maneggiare ma la vedete l'opera ma la vedete l'opera con i due cardinali di fianco non è meglio vederla così la mia è una enorme provocazione tiziano ritratto di donna la detta la bella probabilmente potrebbe davvero ricordarci il volto della venere di urbino o di tante altre meravigliose donne rappresentate da tiziano guardate la online non è più bella non è più visibile non è più facilmente studiabile a parte la quantità di opere esposte al museo che mi rendono mi fanno girare la testa o camminando per fortuna tra le altre finalmente trovo un'opera che riesco a vedere bene ci riesco anche a girare ben intorno perché la venere italica di canova non se la fila nessuno perché ammiratissimo amatissimo ma in mezzo a questa collezione questa statua tutto non sembra anche essere buttata lì così come se non fosse è la venere italica è quella originale paradossalmente si perde anche un po la sacralità delle opere quando c'è questa quantità certo non sono qui per dire non posso suggerire nulla perché se vogliamo non sono esperta di museografia né di museologia ovvio che dobbiamo mantenere la logica della esposizione che ci racconta la storia della collezione però le opere sono fatte anche per essere ammirate viste entrare in contatto con il nostro oggi non succede tiziano ha fatto guarda che spettacolo il la coppia del ritratto di giuglio secondo che ha fatto raffaello ma al museo non si vede un granché neanche le coppie che ho trovato online sono un granché però capite un caso eclatante poi andiamo veramente verso la conclusione attribuito a caravaggio quando c'è un'attribuzione incerta bisognerebbe proprio stare lì le ore a meditare a guardare a cercare di capire così è la migliore foto possibile per cercare di avere meno riflessi al museo perché è lontano dalla parete o meglio è a parete ma lo spettatore è lontano dalla parete lungo un corridoio io quindi cerco di raddrizzarla meglio che posso usando le magie possibili della modifica delle foto ma voi vedete che la donna che noi vediamo è a destra che potrebbe ricordarci magari la anziana signora della cena enemo austi brera per dire ma non si vede perché è assolutamente velata anche in questo caso dai riflessi vedo molto meglio l'opera se la cerco online e in qualche modo quindi posso forse ragionare di più sul fatto che sia non sia potrebbe essere io l'autorevolezza non sono certamente io che devo dirlo ma come spettatore sono curioso di capire se sta mano no avanti alzata questa luce che colpisce forse lo capisco meglio anche se si perde guardate la sacralità questo qui restano quella luce quel buio quella luce della 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 pittura olio che comunque emerge e che in questo caso ahimè perde il digitale perché ovviamente qui sembra veramente tutto molto opaco se vi dicessi che è una fresco ci si potrebbe pure credere perché veramente opaco come dire concludo con questo aiez guardate che brutta foto che ho fatto perché appunto anche questa è messa in una parte di corridoio alla quale non si può accedere non ci si può mettere di fronte ma con le magie della trasformazione riesca a ottenere questo effetto un po le luci di quella di quella olio in questo caso sulla tela di aiez un po compaiono ma se vado online mi posso veramente perdere dell'ammirazione dei dettagli della e quindi non è non è non è meglio no non è meglio assolutamente no ovvio che la mia è una provocazione e io ovviamente continuo a dire che occorre andare al museo l'opera è una una e una soltanto le copie sono soltanto copie però il problema mi si pone perché se noi guardando le opere non riusciamo a vederle ci sfuggono via forse un problema c'è